Ciao a tutti amici di Vriai, sono Panic e bentornati in questo nuovo appuntamento settimanale riguardante Destiny. Nei commenti sotto lo scorso video che è stato pubblicato mi avete chiesto in moltissimi di realizzare una mini guida o un mini tutorial per andare a prendere tutte e 5 le casse presenti all'interno del ride la volta di vetro. Dopo aver dedicato qualche ora alla registrazione di tutti i contenuti sono pronto per farvi vedere questa mini guida. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo. La prima cassa si trova semplicemente dopo aver attivato il pinnacolo ed essere entrati effettivamente nella volta di vetro. Si trova precisamente dritto a voi, vi basterà seguire la strada sempre dritto e arriverete a questa prima cassa. La seconda cassa invece è un pochettino un po' più nascosta, infatti non ho mai sconfitto il templare e dovremmo entrare in questo pertugio che si trova rispettivamente alla sinistra di fronte a noi ed è un piccolo bucchino sulla destra. Entrarete e troverete questa cassa che per la maggior parte delle volte droppa solamente fiori spettrali. Terza cassa, qua iniziamo ad andare un pochettino un po' più su complicato. Allora, labirinto delle gorgoni. Questo punto che state vedendo è quello preciso in cui noi atterriamo. Una volta atterrati in questo punto qua dovete girarvi al contrario e fare la strada che sto facendo io in questo momento. Adesso mi vedrete un attimo titubante perché avevo un attimo perso la bussola. Qua mi inserisco in questa insanatura, poi mi accordo che è sbagliata, quindi torno indietro e vado sulla sinistra. Quindi una volta atterrati di fronte al labirinto delle gorgoni vi girate verso sinistra, saltate su questa roccettina, quindi uno, due, vi girate e vedrete di fronte a voi questo piccolo buchino. Vi ficcate dentro, proseguite sempre dritto e alla fine della strada arriverete alla terza cassa. Questa è un pochettino più nascosta, magari molti di voi la conosceranno, altri no. Può droppare sia equipaggiamenti che armi, che frammenti ascendenti, insomma, è totalmente random. Io ovviamente sono uno sfigato cronico e quindi in questo episodio mi dropperà semplicemente delle banalissime energie ascendenti. Quarta cassa, siamo sempre nel labirinto delle gorgoni, precisamente al punto esatto di respawn, quindi nel punto in cui è atterrato, o semplicemente nel punto in cui rispondate nel momento in cui morite, dovete fare questa strada che sto facendo io, preciso e preciso, ovvero costeggiare tutto il muro di destra, cercando di non farvi vedere da questa gorgone, aspettare che passi e proseguire sempre dritto all'interno di questa insenatura. Vedete, taxi gira a destra, sempre a destra, quindi teniamo la destra e arriviamo in questa stanza, dove saremo di fronte alla quarta cassa, che mi sembra che questa possa droppare solamente energie o cose simili. Comunque sia, meglio che niente, adesso passiamo all'ultima cassa, la quinta, quella un pochettino più nascosta e complicata. Allora signori, quinta cassa, vi ricordate la seconda cassa, ovvero quella nascosta all'interno della colonna del templare? Bene, la quinta cassa si trova sempre in quelle zone, l'unica cosa è che dovete uccidere il templare senza mai farlo teletrasportare. Una volta fatta questa cosa, dovrete entrare nella stessa insenatura dove si trova la seconda cassa, non prendere quella seconda cassa, scendere, continuare a scendere, seguendo semplicemente il percorso e quando arriverete in questo spazio qua, che vi ho fatto vedere adesso e che vi ho fatto anche vedere prima, andate esattamente dove sono andato io. Una volta che avete preso la cassa, potete continuare sempre dritti per la strada e spawnare nella zona in cui si trova la terza cassa, quindi quella che abbiamo preso prima. Adesso ve la faccio vedere, è giusto per farvi capire bene dove è situata. L'unica difficoltà di questa quinta cassa, che conoscono in pochi, è che appunto bisogna uccidere il templare senza mai farlo teletrasportare, quindi è solo per uomini duri. Grazie per aver seguito questo video ragazzi, spero di esservi stato utile ancora una volta, fatemi sapere qua sotto nei commenti se siete riusciti a raccogliere tutte e 5 le casse all'interno della volta. Fatemi inoltre sapere se avete qualche altra richiesta in particolare e io nel limite del possibile mi impegnerò per realizzare i vostri desideri. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto alla Panic, ciao ragazzi! Ciao!